la nostra sciarpa continua adesso con il punto tunisino semplice che in pratica è quello che abbiamo fatto per iniziare la lavorazione ora ve lo rimostro che diciamo è il punto base dell'uncinetto tunisino dopo aver fatto all'incirca una trentina di centimetri lavorati appunto freccia traforato facciamo una cinquantina di centimetri di lavoro appunto tunisino semplice e questo è semplicissimo andremo a prendere ogni barrettina verticale ed estrarremo il filo sull'uncinetto quindi barrettina verticale prendiamo il filo e estraiamo il punto passiamo nella barrettina verticale estraiamo il filo e otteniamo il punto questo va fatto per tutto il nostro lavoro verso andando verso sinistra quindi barrettina verticale inseriamo l'uncinetto frontalmente estraiamo in questo modo fino a terminare con la maglia di vivagno che come ho fatto vedere anche prima prenderemo da tutte e due le asole estraiamo ecco qua il punto base mentre vi ricordo che mentre il punto traforato è composto da quattro passaggi il punto tunisino semplice è composto da un passaggio in cui si montano in cui si montano le maglie e uno in cui le chiudiamo andiamo a chiudere quindi passiamo il filo sull'uncinetto e attraversiamo la prima maglia dopodiché come al solito sempre due a due prendiamo il filo e lo passiamo attraverso due maglie due asole sull'uncinetto fino a chiuderle tutte in questa maniera e queste sono le ultime due nelle quali effettuare il passaggio e sull'uncinetto rimarrà come al solito la prima maglia sempre montata vi mostro ancora come lavorare il punto tunisino semplice ecco qua carichiamo le nostre maglie sull'uncinetto inserendo l'uncinetto stesso nelle barrette verticali e estraendo il punto in questo modo giro di andata in cui si caricano le maglie lavoriamo verso sinistra e in questo modo in questo modo l'ultima barretta e punto finale ok torniamo indietro per terminare il punto quindi passiamo il filo nella singola maglia dopo di che due a due fino a chiuderle tutte ecco qua continuiamo fino a quando non resterà che un'unica maglia sull'uncinetto in pratica l'effetto del punto base è questo diciamo che è un punto che crea proprio un effetto tessuto infatti come potete vedere è abbastanza chiuso serrato e avrete questo effetto qui utilizzando il filato alchimia allora vi dico che io vi sto facendo vedere la lavorazione con un filato molto semplice perché essendo alchimia molto lavorato rischiamo di non vedere bene i passaggi dei punti quindi fate una cinquantina di centimetri in altezza lavorando in questa maniera quindi con il punto tunisino semplice l'ultima parte della sciarpa è lavorato a punto legaccio infatti se notate abbiamo una lavorazione simile a quella con i ferri in cui lavoriamo sia il ferro di davanti che il dietro sempre a dritto in questo caso questo punto legaccio io l'ho utilizzato per dare un po' più di consistenza alla parte finale della sciarpa parte in cui poi ho cucito i miei tre bottoni bene partiamo con questo che forse è il punto un pochettino più complicato anche se non direi insomma allora il punto legaccio si lavora passando il filo sul davanti in questo modo lo teniamo sul davanti inseriamo l'uncinetto nella barrettina verticale dopo di che prendiamo il filo e lo passiamo e lo passiamo teniamo un pochettino la parte sotto e lo passiamo dentro alla alla barrettina verticale riposizioniamo il filo sul davanti prendiamo la barrettina verticale cerchiamo cerchiamo di tener fermo un pochettino il filo lo prendiamo con l'uncinetto e lo passiamo nella nostra barrettina vedete si forma proprio questo punto rovescio quindi il filo deve stare davanti all'uncinetto inseriamo l'uncinetto nella barrettina verticale e poi prendiamo il filo e lo passiamo attraverso la barrettina passiamo il filo davanti inseriamo l'uncinetto nella barrettina vedete il filo passa proprio sotto la barretta e va a finire dietro l'uncinetto prendiamo il filo carichiamo e passiamo dentro la barrettina in questo modo si formano questi punti rovesci quindi passiamo il filo davanti all'uncinetto inseriamo dentro la barrettina prendiamo il filo lo passiamo dietro all'uncinetto carichiamo e estraiamo passando attraverso la barrettina ecco non è difficile bisogna soltanto ricordarsi di passare il filo davanti poi passare l'uncinetto dentro la barrettina riprendere il filo passarlo passarlo sull'uncinetto e tenerlo con la punta del dito in questa maniera ecco poi magari se viene il punto lento tirare un pochettino appena appena il filo però il movimento di andata è sempre questo ok un filo davanti all'uncinetto inseriamo dentro la travettina verticale il filo adesso lo passiamo in questa maniera dietro in modo da poterlo prendere con l'uncinetto e passarla attraverso la barrettina di nuovo ecco qua con il filo davanti si inserisce l'uncinetto nella barrettina poi passiamo il filo davanti al punto preso lo posizioniamo dietro all'uncinetto in modo che carichiamo il filo e lo passiamo attraverso la barrettina per formare il punto quindi di nuovo parrettina passiamo il filo davanti e estraiamo filo davanti ecco magari le prime volte può sembrare un pochettino più complicato ma una volta che avete capito il meccanismo e anche questo è un punto semplice da realizzare è un punto semplice qui è un punto semplice siamo arrivati quasi alla fine del giro e lo stesso faremo con l'ultimo punto quindi passiamo il filo davanti vedete prendiamo le nostre a solette solite solite per chiudere e passiamo attraverso di esse per formare l'ultimo punto vedete è come se l'avessimo lavorate abbiamo tutti i punti a rovescio in pratica adesso per completare di nuovo passiamo attraverso un unica un unico punto dopodiché torniamo verso sinistra verso destra scusate passando attraverso due punti per volta ecco qua questo è il nostro punto legaccio ultimo punto ecco fatto ecco fatto ora avrete questo tipo di lavorazione sulla vostra sciarpa torniamo a lavorare un altro giro al legaccio quindi passiamo il filo davanti all'uncinetto prendiamo la prima barrettina il filo va riportato dietro caricato sull'uncinetto ed estratto dalla barrettina questo dobbiamo fare con tutti i punti con tutte le barrettine che abbiamo che abbiamo sulla lavorazione ricordatevi sempre passate il filo davanti inserite l'uncinetto nella barrettina verticale prendete il filo e estraete e estraete filo davanti inserite nella barrettina il filo deve tornare dietro per essere preso dall'uncinetto e estraete e estraete e estraete il filo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua l'ultimo punto, sempre con il filo davanti. E voilà, inizia a vedere il motivo al legaccio. Passiamo attraverso il primo punto singolo, dopodiché torniamo indietro sempre due a due. Ecco qua. Siamo quasi arrivate al termine di questa, al completamento di questo punto, di questo giro. Ora vi faccio vedere come chiudere la lavorazione una volta che avrete effettuato tutti i tre passaggi con i tre punti diversi. Una volta arrivata a lunghezza stabilita, chiudiamo il punto andando verso sinistra. Allora, dobbiamo fare come se fosse una lavorazione con il punto semplice. Estraiamo il punto dalla barrettina, solo che invece di continuare a caricare, facciamo in questo modo. Cioè chiudiamo i punti man mano che andiamo verso sinistra, prendiamo la barrettina e attraversiamo con il filo in modo da avere il punto. Questo punto lo passiamo attraverso quello precedente, in modo da formare una catenella di chiusura. Ecco qua, è semplicissimo, scusate, ecco qua, passiamo dentro, carichiamo il punto e lo passiamo dentro l'asola precedente. In questa maniera, fino a quando non avremo tutti i nostri punti chiusi. Ecco qua, come vedete è molto semplice. Mi consiglio quando effettuate la lavorazione con l'uncinetto d'unisino di prendere sempre un uncinetto più grande rispetto al numero consigliato sull'etichetta. Perché l'uncinetto, la lavorazione ad un uncinetto d'unisino tende a stringere parecchio e utilizzando un uncinetto molto più grande si dà più morbidezza alla lavorazione. Ecco qua, siamo arrivati all'ultima maglia da lavorare. Prendiamo le due asolette, attraversiamo con il filo, dopodiché passiamo quest'asola nella precedente, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Io faccio così, per non tagliare il filo, stringiamo. E in pratica abbiamo finito la nostra sciarpa. Se volete questo può essere un imparaticcio per imparare appunto questi nostri punti. Il punto base, che è questo punto semplice d'unisino. Abbiamo imparato il punto freccia traforata. E abbiamo terminato con il punto a legaccio. Bene, io una volta fatti tutti i punti, lavorati tutti i punti, ho deciso anche di fare un passaggio intorno alla sciarpa a maglia bassa. Questo, se volete farlo, non è obbligatorio. Io l'ho rifinito con un giro totale a maglia bassa all'uncinetto. Ecco, questi sono i bottoni che io ho utilizzato. Li ho cuciti sulla parte a legaccio. E utilizzando i fori della parte lavorata, appunto freccia traforata, possiamo giocare con i bottoni e chiudere la sciarpa come meglio crediamo. Bene, vi ricordo questo fantastico filato di Adriafil che si chiama Alchimia. L'ho trovata anche in altri colori. Quello che ho utilizzato io è la variante 57. Grazie. Grazie.